Abbiamo coperto tante indicazioni, la prima era quella dei tre uomini e tre donne, ci tengo perché può sembrare banale e al di fuori, invece è stato abbastanza complesso arrivarci e credo sia un bel segnale rispetto a una legge elettorale regionale che non ha i meccanismi di primarietà che ormai abbiamo nei comuni e sulla legge nazionale. La presenza di tre donne dà significato a questa parte della società. Poi i territori, nella giunta sono rappresentati tutti i territori, ogni provincia ha almeno un assessore, non per una logica di divisione, di separazione, anzi proprio con l'obiettivo di poter dare ognuno un contributo laddove opera per spingere verso una visione sempre più regionale della politica. La scelta poi di cinque interni e un solo esterno, quindi abbiamo ricorso al vecchio statuto che limitava a uno gli esterni. Anche questo è un grande segno di attenzione rispetto alla parola sobrietà che era una delle parole d'ordine fin dall'inizio del mandato, puntare su cinque assessori interni significa aver fatto una scelta dove utilizza al massimo le risorse che già andrebbero investite come consiglieri regionali anche sulla giunta. Questa fase di rinnovamento continuo, dentro la scelta anche del Presidente del Consiglio che io ho apprezzato, ho sostenuto anche qui la ricerca di parlare a diverse anime del Partito Democratico. Uno sforzo che per quanto credo ben riuscito avrà comunque e inevitabilmente chi non si riconoscerà, però questa tensione c'è stata nel cercare di tenere insieme il più possibile. Adesso ci aspetta un grande lavoro, bellissimo l'atteggiamento dell'Aula, molto positivo, quindi con l'atteggiamento anche dell'opposizione di, chiamiamolo, un carattere costruttivo dell'apporto dentro il Consiglio, sta a noi lavorare con la nuova giunta il prima possibile per riuscire a trasformare in realizzazione quelli che sono stati gli impegni del documento programmatico.